con molto piacere invitato da Giuseppe Papasso, non so che cosa faccio qui, è la prima edizione credo non so nulla, però sono contento perché tanto vado sicuro che quando c'è Papasso in mezzo è sempre qualcosa di buono, avete visto il suo film no? Vedetelo, Un giorno della vita è una garanzia. Sono legato al cinema da più di dieci anni, da quando il cinema mi ha riscoperto con l'imbalsamatore e per grazia di Dio insomma sono dieci anni che non mi riposo più e speriamo che non mi riposi mai, sono praticamente pappa e ciccia insomma non esiste un film, è come la canzone, la canzone senza musica rimane una poesia, il film con la musica diventa una poesia, quindi questa è la differenza. Il sound design in un film diciamo può spaziare da una semplice elaborazione di suoni e di suoni concreti che spesso sono già nella colonna sonora perché sono della presa diretta o fanno parte del racconto proprio del film o può arrivare a essere un'elaborazione molto molto raffinato quindi anche musicale di suoni che vengono elaborati, inventati, sintetizzati, risintetizzati o usando anche suoni diciamo generati da strumenti, quindi si può arrivare fino a una vera composizione musicale come avvenuto nel film per il quale mi premiano. Tra l'altro questo è un festival di musica per cui quale occasione per… ma se dovessi scegliere, sceglierei sicuramente il teatro perché il teatro sono responsabile di quello che faccio, è una materia che cresce con me, che la posso controllare, la posso giorno per giorno, posso tornarci sopra, verificare.